Un'interrogazione rivolta al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per conoscere il piano di messa in sicurezza delle autostrade A24 ed A25 che collegano l'Abruzzo a Roma. L'ha depositata il senatore del Partito Democratico Michele Fina. Fina chiede di sapere quale sia il programma complessivo di interventi necessari alla messa in sicurezza delle infrastrutture autostradali che ANAS intende porre in essere nello svolgimento delle attività previste al Decreto Legge 68 del 2022 che ha predisposto il passaggio della gestione di A24 e A25 da strada dei parchi ad ANAS proprio per assicurare la continuità nella circolazione in condizioni di sicurezza. Inoltre il segretario del PD Abruzzo interroga Salvini su quali siano gli interventi d'urgenza che la subentrata società di gestione ha in programma di effettuare per le situazioni di particolare disagio come quella relativa allo svincolo del raccordo autostradale di torno in parte che presenta rischi sostanziali. Nella premessa del testo si ricorda che A24 e A25 ricadono per la quasi totalità in zona sismica 1 ovvero sismicità alta lungo le due autostrade si trovano 153 ponti e viadotti per uno sviluppo complessivo di circa 118,8 chilometri e 54 gallerie con uno sviluppo complessivo di circa 70,8 chilometri che lo svincolo del raccordo autostradale di torno in parte in uscita in direzione di Roma presenta un grave ammaloramento del viadotto con evidenti segni di deterioramento al punto che dagli stessi piloni è possibile scorgere i ferri di armatura arrugginiti danneggiati e distaccati dal calcestruzzo. Lo svincolo è a servizio dei territori dell'Altopiano delle Rocche, Chiude e Fina e della Piana di Campo Imperatore, mete di grande afflusso turistico in ogni stagione con considerevoli picchi nei mesi estivi di invernali.